Asolo, un motociclista che transitava nelle vie di Asolo verso le 19.30 è stato soccorso dall'ambulanza del suo M. Crespano, presente in loco per fare assistenza durante il palio. L'uomo è stato punto probabilmente da una vespa, ha iniziato ad accusare Malori, per questo si è fermato e prontamente chiamato i soccorsi. Stabilizzato durante il tragitto è stato portato all'ospedale di Castelfranco Veneto.